Si chiama James Brown, è un grande attivista il quale è salito sopra un aereo della British Airway. E questa è la notizia che vi annuncio oggi, l'uomo è salito all'interno maio sopra a questo aereo per l'appunto, non è passato inosservato, tanto che le norme di sicurezza si sono messe già in allerta per quanto lo riguarda. Non è, diciamo così, una novità, purtroppo ci sono persone che salgono sull'aereo, vi ricordo che questo aereo era pronto ovviamente a decollare. Sarà difficile o meglio facile capire cosa ha spinto l'uomo in questione, molto probabilmente le motivazioni sono da rilevare a reali, concrete motivazioni riguardanti il clima, riguardanti l'ambiente, riguardante la nostra per l'appunto ecologia. Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione, iscrivetevi al prossimo video d'Aliandro, una natura italiana. Grazie.